Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Come avete letto dal titolo, ho battuto Grax su Clash Royale Allora, innanzitutto ho avuto modo di sfidarlo grazie a un torneo che ha fatto il live Poi l'ho incontrato e appunto l'ho sfidato e l'ho anche battuto Adesso vi faccio vedere la partita Abbiamo un bianco roscio 92 che è primo in classifica Ne facciamo subito un'altra E abbiamo ancora 37 minuti di torneo Usa i tre moschettieri Raga non mi ci trovo bene con i moschettieri Ok, tac, moschettiere sulla destra Uh, attenzione a quella Valk Potrei anche magari fare una cosa del genere Per cercare di far scorrere il mini pack e non far lettare Vabbè, occhio perché posso anche sfruttare qualche hit del golem di ghiaccio Uh, molto interessante Peccato per il moschettiere che non ci dà una mano con gli sgherri Ma guardate il trick degli scheletrini Gli sgherri proprio li salutiamo No, uno sì o uno no, li ho messi male infatti Però non hanno hittato, va bene, va bene, va bene, perfetto Ottimo Con tutta la calma del mondo Grax, non trovare distrazioni Giochiamoci bene il torneo perché già abbiamo fatto due fail clamorosi E vedete già, leggendo al volo la chat Ho sbagliato il posizionamento della Tesla Ma comunque il domatore non hitta E quello è una grandissima cosa Potrei pushare ma non pusho Non me la sento Non me la sento Moschi Hitta la... Uh, bello il mini pack Proviamo a rifare il trick di prima Mi sa che adesso è una bella spada Eh, mamma mia ragazzi La stavo prendendo la spadacciata Non l'ho presa per poi Il domatore non ha hittato Situazione abbastanza di stallo, eh Comunque, raga, la live si vede tutta bene Spero di sì Bella la Valkyria Volevo sparare una... Eh, adesso sì, serve la Fireball Ma l'ha giocata veramente molto molto bene questa Raga, ha fatto una giocata clamorosa Bella la congelamento del gelino Ha quasi riaperto la... No, ha riaperto la partita Perché è in vantaggio lui Grande giocata Non mi aspettavo una giocata del genere Grax, un deck da consigliarti Mandatemelo su Instagram, raga Trovate il link qui sotto in descrizione Occhio al mini pack Oh, male Male, 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 raga È questione di millesimi Cioè, sbagli il posizionamento di una carta Il mini pack ti distrugge Ti distrugge tutta la vita Però Vabbè, raga Ciao, ne proprio Ma che ho combinato Ma che ho fatto? Ma che ho fatto? Perché ho fatto quel fail della Tesla? Non ci credo Mi merito di perdere Perché... Cioè, non posso fare queste cose Ovviamente lui ora si difende Con tutto quello che ha Attenzione perché il domatore Forse è due No, 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 male male Ho fatto una pollata assurda con la Tesla L'ho messa meglio il cannone Boni perché con la Tesla non mi ci trovo Che pollo La stavo giocando pure bene Peccato per quel domatore Che mi ha spaccato tutto Bella partita, Flinky Grande, bellissima partita Ragazzi, questa partita qua Me la sono giocata veramente bene E tra l'altro Non è che io sono andato a vedere il suo mazzo E ho fatto appunto un mazzo counter No ragazzi Io uso il mio mazzo Che uso per scalare i microfei Allora ragazzi Io volevo solo farvi vedere Questa partita Che mi è piaciuta veramente tanto Intanto un salutone a Grax Se volete Il video di Clash Royale più avanti Fatemelo sapere con un commento E noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao